Benvenuti, cari follower. Domani, lunedì 9 settembre 2024. C'è quindi un'allerta rosso scuro per temporali e maltempo. Ma prima, premi il pulsante Mi piace per questo video, iscriviti al canale e attiva la campanella su tutte le notifiche per poter ricevere notifiche sulle nuove notizie Meteo in Italia. Quindi, a partire dall'una di notte di domani, lunedì. Temporali molto forti e violenti colpiranno il nord e il centro Italia. Questi temporali si sposteranno rapidamente verso l'estremo sud con piogge molto forti, accompagnate da grandine, con rischio di allagamenti. La protezione civile ha diramato un'allerta. Domani, lunedì, allarme rosso scuro per tutti. Trento Alto Adige, Friuli Venezia, Giulia Veneto, Emilia Romagna, Toscana. Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio-Molise, Campania-Calabria, Basilicata, Puglia-Sicilia.